musica 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 e qui wolf Jacopo mi facciamo idea subito mina di gioco e vabbè i piccoli errori che i programmatori ritorniamo a noi adesso come penso va indietro allora adesso siamo ritornati naturalmente nella nostra miniera e adesso abbiamo no ce li hai comunque adesso abbiamo pensato a cosa fare e per adesso ci occupiamo di recuperare i materiali come per esempio il carbone quindi torna indietro che abbiamo già visto prima di tutto piazziamo qualche torcia sennò si sponono sempre i mostri perchè vedo qualcosa laggiù c'è qualcosa di strano siamo perchè ha saltato vabbè siamo sul livello della bedrock no no però c'era della pietra nera non credo che sia la come si chiama la quella che ferro ah no ferro ferro allora chiudiamo strobo qua di lava sperando che poi non lo riapriamo per sbaglio allora chiuderlo vabbè si dovrebbe doveva vabbè si no sembra che ah no c'è sotto continua sotto no no ok sta scendendo ok adesso illuminiamo tutto andiamo a prendere il ferro giusto illuminiamo anche qua abbiamo come potete notare una cazzo ma quanto scende sto coso scende dappertutto abbiamo trovato una miniera della madonna qua sotto il problema adesso sarà poi a risalire eh si perchè non mi ricordo più la strada vabbè pazienza poi lo facciamo seguiamo i cadaveri degli schietti dei creeper ecco appunto lava minchia culo stavo già per caderci dentro allora qua mettiamo il pietrisco e direi avanziamo lentamente ecco no usare la terra così almeno sappiamo che qua c'è la lava no perchè la terra non fa trasparire cioè mentre no giusto c'hai ragione adesso poi lo copro anche di terra tanto non lo sappiamo che c'è la lava ma io non sono così coglione da scavare stando sopra il cubetto su cui scavo se lo fai tu però io non sono così coglione cioè sono un professionista serio io allora mettiamo una torcia anche qua ricordiamoci di non scavare dove sullo stesso cubetto su cui siamo per favore ecco ferro torcia ferro stiamo facendo una grande raccolta di ferro mi piacerebbe trovare anche l'oro adesso va bene per tanto guardare sempre sotto i cubetti su cui si scava prima di entrarci prima l'ho ricordato giusto per allora madonna scaviamo un altro qua e piazziamo e altre torce madonna quante torce mi sa che poi dovremmo risalire perché stiamo finendo no perché intanto scusa lì abbiamo la scorta di carbone eh no ma stiamo finendo il legno penso che finirà prima il carbone il legno eh si eh vabbè però lì te lo abbiamo la scorta allora ok altre torce andiamo sempre avanti tenetevi pronti alle battaglie perché non sapete mai cosa che c'è qua sotto ecco il soffitto non mi piace scavare perché potrebbe uscire la lava si esce e ci ammazza subito cioè non c'è proprio niente da fare si che poi di queste cose qua valgono se giocate in modalità estrema se ne giocate in altre modalità potete anche si in creativa cazzo ma continuo a farlo sto errore di premere Q aspetta prendi il carbone allora scaviamo un pochino a parte che nelle altre modalità se non sbaglio la lava si vede attraverso i cubetti qua non so perché non si veda non so se è perché siamo in estremo o cos'altro però non si vede sanno bantato il gioco dopo tutto quello che ci è successo dopo tutti i creeper che abbiamo affrontato uno si però no rimane sempre comunque un essere schifoso adesso dice hai raccolto o sei il cilindro? come sei il cilindro? mi incazzavo no perché ti sta dando l'esperienza il carbone non ti puoi dare l'esperienza ma ecco cos'è sto suono ma te lo da quando la quali lo so lo so no sono un professionista io eh anche no siamo professionisti? mica siamo ormai in americani eh abbiamo finito quasi il piccone penso che sia l'ultimo cubetto che riesco a rompere no forse vabbè il penultimo insomma stiamo finendo ecco no continua ok ecco l'avevo detto io no perché se tu continui a vederlo apposta piazziamo altre torce il carbone si incazzava piazziamo altre torce no ah ce li abbiamo i piccoli siamo pieni di piccoli eh oh eh perfetto vabbè non mi piace scavare l'ho già detto qua sopra ma ecco ne ho pure fatto uno di troppo chiudere sempre i buchi in miniera perché l'estetica è importante ok allora prendi l'ultima parte di carbone poi torniamo in dritto comettete che dobbiamo tenere un party in miniera eh naturalmente la persona farebbe torna in dritto cerchiamo un attimino se c'è qualcos'altro giusto perché magari eh solitamente vicino alla lava c'è c'è tanta roba di solito mio dio sto rumore eh il solito rumore che fa paura quando sei sotto terra solo io riesco a fare certe cazzate allora vabbè qua siamo qua poi qua continua ad esserci del rumore di lava ah già è vero che c'è quella sotto sotto eh adesso poi facciamo un giro anche sotto poi scaviamo facciamo facciamo tutto un giro la nostra miniera mentre tutte le altre sono belle linde pulite che sai esattamente dove vai qua non ci perdiamo è già successo ragazzi intanto la stiamo già rimettendo a posto cioè l'importante è trovare un modo per riuscire ad orientarci non esiste oh che domande fai scusa sono le note eh la mani la minimap allora vabbè eh risaliamo ancora anche qua aspetta qua c'è l'altro pongo di mettere allora si qua c'è l'altro no allora con la patina abbiamo ancora vista non l'abbiamo ancora vista perché sennò ci sarebbero le torce ma che? eh probabilmente c'è un uscito uno sbocco quindi armati perché non sappiamo dove stiamo andando si c'è uno sbocco vedi non siamo poi così in profondità un ferro un ferro allora c'è il solito uccello che non capiamo dove cavolo è altro ferro spero che non chissà perché è illuminato vuol dire che siamo veramente forse c'è uno sbocco una risalita una un qualcosa che da luce secondo me c'è un buco può essere un buco che da verso l'alto ogni tanto ritrovi scusa siamo a 19 ci dobbiamo proprio essere attaccati ma no siamo attaccati al fondo del mondo un buco che da lì va fino al fondo del mondo se ci cali dentro non so se mi spiego eh continuiamo un pochino a rompere giusto per dare un'occhiatina il nostro solito uccello qua c'è della terra quindi boh è strano vabbè un ferro ferro e qua lava aia aia quando c'è la lava adesso scavo qua ci pensavo allora vediamo un pochino com'è sopra tanto qua c'è un buco no aspetta usa il ferro aspetta aspetta giusto per dare un'occhiata cosa c'è qua su c'è questo non lo so stiamo attenti a non prendere fuoco se posso chiudo si posso chiudo l'imbuccatura e la lava dovrebbe già scendere ecco infatti aspettiamo un secondo e poi scendiamo nelle membra vai via quindi è il ferro giusto intanto che scende scendiamo anche noi no un attimo che piazzo un paio di torci sempre perchè era la lava a tenere luminoso allora qua rompiamo poi risaliamo sperando di non fare un buco nella lava perchè sennò poi non possiamo più visitare la galleria facciamo così notare quanto sono saggio mentre gioco a miner ricordate sempre la legge non scavare non stare sopra il cubetto in cui si scava se no siamo stati alla fine di wolf eh altro ferro ok dovrebbe essere finito a questo punto si infatti ma dici un altro buco cosa? si lo so e c'è il ferro un attimino non abbiamo ancora trovato diamanti o cose simili a parte che tanto non potremmo prenderli perchè dobbiamo costruirci un tavolo a lavoro per farlo no è anche una fornace è anche una fornace beh la fornace non credo che sia un problema puoi mettere la fornace un po' dobbiamo risalire si allora direi di rompere qua ok e anche qua magari giusto per ok oh ma non abbiamo ancora trovato mostri qua sotto cioè appena solo là perchè era bello grosso ma qua sotto piccoli sta zitto e porti sfiga stavo dicendo che abbiamo un culo invenso marfi sta sfer marfi ci sta ascoltando chi è marfi? io ho la legge di marfi se qualcuno può andare male lo fa ah si non la so qui questa legge la dico sempre allora vabbè ok abbiamo finito le torci quattro allora allora ah beh ok vabbè ce ne è rimasto uno dai no qua dai ci fa prima a fare così cazzo cazzo 64 torci basteranno chi te lo dice allora scaviamo anche qua stiamo facendo poi voglio vedermi risalire sopra io voglio proprio vedermi wolf tu ti ricordi tutta la strada giusto? più o meno no mi son perso la seconda alla seconda girata a sinistra però ti ricordi che avevi girato a sinistra no yaya yaya che sta sempre in mezzo alle palli qua non c'è nient'altro no piazziamo l'ultima torcia giusto per perchè e basta ce ne andiamo comunque per chi se lo chiede adesso sta giocando jacopomi non è non credo che siano novità ok allora sempre sto uccello ah già dobbiamo salire qua per dare un'occhiata allora prima di rompere i cubetti a cazzo consiglio di salire a dare un'occhiata per vedere se la lava se ne è andata tutta ok ah non son centrato ok allora la lava se ne è andata c'è dell'alta però si vabbè quindi possiamo scavarci cautamente lo dico per gli utenti tontoloni cautamente cioè tipo a qualcuno verrebbe per esempio in mente di rompere che ne so questo cubetto cautamente vuol dire che dobbiamo stare qui per romperlo intanto qua c'è una scala che sale e che è una figata e osservate sempre controllare dove vanno a finire i buchi perché poi ci lamentiamo che sbucano fuori creeper mostri eccetera carbone prendi non si sa mai carbone intanto non abbiamo più legna qui no è felice però ci da esperienza saliamo di livello gente quindi allora scaviamoci una ah ferro questo posto qua è pieno ma poi è tornare indietro eh sì perché se finiamo tutta la carne poi siamo cazziati qua dentro beh moriremo per fame però avremo sicuramente un casino quindi io direi di iniziare a farsi una spada inferno cioè cioè un un piccone inferno ma facciamo adesso facciamo una cosa cerchiamo di far così poi ritorniamo su ci facciamo tutte le varie cose in ferro e tutto ma ci facciamo il secchiello e l'acqua infinita e poi facciamo una farm e wolf sotto la mia guida farà una farm degna di un re ma non sarebbe più comodo utilizzare cioè non ce la faccio scusa abbiamo io ho fatto no torno indietro e c'è altro carbono un secondo lo so non ho ancora ispezionato tutto non vedi quanto è grande è sto posto ah no ma scusa ce la facciamo sulla nell'acqua che abbiamo davanti a casa si giusto beh però per la farm l'acqua infinita è sempre utile a me poi quella lì ce la facciamo il problema è che poi soltanto farm 2x2 basta no chi lo dice poi puoi ampliarlo allora mettiamo una torcetta qua qua rompia allora non lo sconsiglio di rompere il soffitto perchè se c'era della lava non si sa mai vedo altra lava là in fondo mettiamo sempre una torcetta c'è sempre l'uccello voi immaginate che battute che abbiamo fatto una volta ecco siamo diventati seri per un video ma che cazzo è un pipistrello scusa eh è un pipistrello ma io non li avevo mai visti sti cosi ma è la nuova versione e sarà perché questo qua non è amplificato sarà la nuova versione di minercraft che ha fatto sta cosa qua prima non c'erano mai visti ecco ho fatto una cosa sconsigliata però vabbè ho rotto un cubetto senza tirare sopra di me altro carbone lava madonna ma non sta uuuu lapislazuli si ma non possiamo restarli si che possiamo altra lava ma minchiai ah no non è lava questo qua è non lo sanno ah no è vero aspetta fai una cosa scendi ah ho capito dov'è che siamo dove aspetta niente niente adesso poi ti spiego iniziamo col propongo di scendere a vedere no non è tanto consigliabile c'è un lago di lava allora si propongo di scendere a vedere no allora aspetta fai una cosa copri la lava lì si inizio a coprire la lava qui perché è pericolosa perché poi magari si espande allora se prendo fuoco andiamo per gradi poi scriviamo non l'ho proprio chiusa comunque vabbè ecco no allora ho fatto così per vedere dov'è che si possono posizionare le torce adesso faccio una cosa che in linea teorica è sconsigliato fare questo posto qua è in url che in linea teorica è sconsigliato fare cioè rompo di nuovo il cubetto ok per metterne uno dentro perchè ok così perchè prima che poi mi viene in mente di romperlo perchè mi conosco allora allora popolari prende il carbone lì poi continuiamo giusto carbone un secondo che si tolge la lava allora piccone oh abbiamo scoperto una miniera enorme un mostro mostro quelle lì sono quelle lì si chiamano mob e non sono amici no una battuta che c'era in un film non mi ricordo più quale ok no perchè io avevo capito come al solito un'altra cosa com'è giusto che sia carbone o ci stia riempiendo di carbone è normale insomma ti riempi sempre di carbone si sta questa cosa qua sta diventando lunghissima eh oh abbiamo trovato un casino di roba abbiamo trovato pure i lapislazuli sai già cosa succederà si moriremo ti da morte e lente e dolore moriremo di fame qua sotto perchè non riusciamo più a risalire eh questo qua è scontato scusa allora facciamo un tavolo da lavoro e prendiamo il lapislazuli e poi ah già ecco qua è dove ho proposto di scendere giusto poi diamo un'occhiata giù allora così almeno se moriamo prima abbiamo fatto un qualcosa di degno qua è ci orientiamo da dove veniamo con le torce cazzo cazzo se mi buttava nella lava se mi butta nella lava porco mondo mangia mangia eh sì se cosa succede tu mangia e adesso aspetta stiamo un attimo qua ad aspettare che si intende la vita giustamente no nessuno di noi sa dove è uscito non si sa che è successo l'hai visto anche tu? c'è stata una zoomata improvvisa e poi lì allora mettiamo un tavolo da lavoro mettiamo è pericoloso quel coso dici vien altro scheletro mi butta dentro ferro non l'avevamo visto un altro pipistrello adesso sappiamo cosa sono un'altra musica spettrale ecco ecco adesso esce della lava da qua su adesso quando faccio per tirarmi indietro mi cado dietro la lava minchia ghiaia allora prima scendiamo perchè se scende altra ghiaia mi incazzo eh infatti ho fatto bene a scendere ecco ho fatto benissimo a scendere e adesso ventola tutta sta ghiaia qua ci dà la selci che è utilissima scorda avevi detto prima che era inutile non so a cosa serva la selci ho fatto bene a togliermi da sotto ragazzi se rimanevo sotto cos'è che succedeva? schiattavi rimanevo dentro il cubetto di ghiaia? un'altra ghiaia buona qui in poi non ci interessa più sto posto per fortuna beh perchè è pieno di ghiaia così allora facciamo la fornace dobbiamo chiudere anche qua facciamo l'ultima cosa faccio vedere come si costruisce una fornace non lo sa nessuno allora aspetta prima bisogna... no nooo non abbiamo il legno allora chiudiamo e... vabbè ciao a tutti dispiace quindi bella a tutti da Wolf e da Jacopo Mi alla prossima puntata